Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sarebbero in crisi. Ma perché? A dire la sua sul loro rapporto, ci ha pensato la ex di lui, Alenia Seredova Secondo alcune voci, Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sarebbero in crisi Ma perché? A dire la sua sul loro rapporto, ci ha pensato la ex di lui, Alenia Seredova Cosa ha detto? Leggi anche, Antonino Spinalbese, dopo Belen Rodriguez, ha una nuova fidanzata, chi è Nanda Isaia? Foto Instagram Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono in crisi? Secondo alcune voci, Buffon e Ilaria D'Amico sarebbero in crisi Il motivo sarebbe semplice, la giornalista sportiva si è stantata di aspettare la proposta di matrimonio da parte del noto portiere di calcio La coppia sta insieme da diversi anni e ha anche un figlio, Leopoldo Mattia Nonostante questo, però, Gigi Buffon non ha ancora tirato fuori uno sfavillante anello per Ilaria D'Amico Il portiere ha sostenuto che la proposta sarebbe in ritardo per via del divorzio, ancora da ufficializzare, con Alenia Seredova Ma è vero? Le parole di Alenia Seredova sulla presunta crisi fra Buffon e Ilaria D'Amico si è pronunciata anche Alenia Seredova, la ex moglie di Gigi, nonché madre dei suoi figli più grandi La modella via Instagram ha detto, c'è da dire, comunque, che Alenia Seredova ha sempre dichiarato di essere contraria alle famiglie allargate, del resto sappiamo che non è facile perdonare un tradimento, o più di uno Oggi, comunque, la modella di Praga è molto lontana dalla storia d'amore con Buffon ed è sentimentalmente legata ad Alessandro Nasi, dal quale ha avuto anche una bambina Cosa succederà fra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico? Lo scopriremo presto. Seguici su Instagram cliccando qui